Ciao a tutti sono giornalismo del cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi Il famoso Antonino Spinalbese distrugge definitivamente la showgirl Belen Rodriguez, nessuno l'avrebbe mai potuto immaginare, ecco tutti i dettagli a riguardo . Antonino Spinalbese e Belen.Come ben saprete i due, seppur per un breve lasso di tempo, sono stati sentimentalmente legati ed hanno condiviso molto La loro storia d'amore infatti ha attirato l'attenzione di tutti coloro che la seguono fin dagli esordi della sua carriera Per chi non lo sapesse, lui inizialmente non era affatto conosciuto nel mondo dello spettacolo, l'interesse nei suoi confronti infatti è stato suscitato proprio con l'avvicinamento della donna Iniziando questa relazione quindi per lui è iniziato un vortice completamente inaspettato Il suo nome è finito nei vari chiacchiericci che riguardano principalmente il gossip e questo non ha giovato particolarmente sulla sua vita privata Dopo la nascita della piccola Luna Marie però, quella che prima appariva come una relazione stabile e fondata su basi solide, semplicemente si è sgretolata nel nulla Antonino e Belen.Belen, subito dopo aver confermato la notizia della loro rottura si è prontamente consolata fra le braccia del suo storico ex Stefano De Martino Inutile dire che Antonino non ha affatto apprezzato il suo gesto, compiuto inoltre sotto gli occhi di tutti Successivamente, lui ha deciso di far calare il silenzio sul suo nome, non attirando infatti alcuno scoop Antonino Spinaldese si scagli incredibilmente contro la showgirl Belen, cosa è successo? Anche se entrambi si sono ripromessi di non influenzare negativamente sulla crescita della loro figlia Luna tramite i loro comportamenti, i loro atteggiamenti lasciano molto a desiderare Belen ed Antonino.Nelle ultime ora pare infatti che, dopo che l'ex Belen ha deciso di far trapelare e così confermare il ritorno di fiamma, lui si è praticamente scagliando contro di lei Il modo utilizzato però è davvero singolare. Come vi abbiamo già anticipato precedentemente, lui per via del gossip si è ritrovato in un loop infinito Per questo motivo infatti ha deciso di colpirla con la stessa moneta, facendo ricadere un gossip inimmaginabile sul suo conto Apparentemente può sembrare che in realtà non sia un gesto così eclatante, scatenare un determinato chiacchiericcio però potrebbe avere delle ripercussioni incredibili sulla vita della donna Tramite una Instagram story l'uomo ha deciso di condividere un video in cui viene detto, small mind discuss our people, gossip Good mind discuss events, great mind discuss ideas Che tradotto significa, piccole menti discutono di altre persone, pettegolezzi Le buone menti discutono degli eventi Le grandi menti discutono di idee Questo è un chiaro segnale, con queste parole ha voluto lascia intendere molto riguardo la vita privata di Belen Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video